Previsioni per martedì 20 maggio. Al nord, ancora piogge su Piemonte e Alpi Occidentali, parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni settentrionali, specie al mattino. Al centro e al sud. Tempo soleggiato, ma nel pomeriggio l'instabilità porterà dei rovesci sull'Appennino e sulle pianure dell'Emilia Romagna. Piovasche anche su ovest Sicilia. Venti da deboli a moderati. Mari da quasi calmi a mossi. Temperature stazionari al nord, indecisa aumento al centro e al sud.